Stamattina sono venuto a Fior di Monte a trovare il mio amico Luca Scani vedere se riesco a ammazzare due o tre stalle a questa cucciolina, la figliola della nera per il lembo sono in compagnia del mio amico Federico che è da un'altra parte e io sono in compagnia con i miei inseparabili PS Planet, Evo Mapp e che stamattina hai corso in cima a queste montagne che fa molto freddo in compagnia del mio grande amico che hanno comprato la BM Antic, questo porto che è favoroso, una cosa estremidosa, bellissimo Grazie Roberto, io l'andiamo a vedere se il nostro DS Planet si serve i nostri cani Grazie a tutti 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 Grazie a tutti